Il numero 34 Si allinea ora Giuseppe Ferraiolo con il numero 33 Anche senza corse con la sua Fiat 500 Sempre siamo nel gruppo delle bicilindriche Vediamo in vista i concorrenti 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 Il numero 349 E 59 E con la sua Fiat 500 Della Cosenza Corse Abbiamo Giuseppe Ferraiolo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il primo classificato Tempo 2, 49, 19 Un veterano Giuseppe Ferraiolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti